Sì, è un po' di brio, mi sta chiedendo dei segreti piccanti. Siamo carichissimi, siamo carichi, in generale siamo carichi, come se non avessimo mai suonato prima. Carichi a molla. Questa è la domanda che non vorrei mai avere nell'intervista. Siamo incontrati un anno fa e... Basta, non c'è più altra da dire. Dai, parla! Non mi ricordo la domanda, ci siamo trovati bene, finito subito. In realtà dovremmo registrare... Per quel momento vorremmo mangiarti con un kebab bar. Perché sono le 5 e vorremmo mangiare anche un kebab bar. C'è questa domanda tipo canzellala. Sono le 5. Oh, regà, non abbiamo ancora risposto alla domanda, eh. Ma tanto lei è l'amante, così non rispondiamo a nessuna. Ma dimmi la sera. No, dovremmo andare a registrare tra poco e prima o poi faremo uscire un EP. Sono le fumo anche al vento. Un freddo, è stato piuttosto freddo, però siamo ammalati tutti. Siamo ammalati tutti. Ma è stato forte, è il nostro primo video insieme. Non ci sono distante. Beh, come il gruppo no, ci vuole un'ora. Diciamo che non ci sono fondi sufficienti per poter anche avere la possibilità di dire qualcosa. Che è stata la mia risposta, eh, dillo? Bravi, bravi. Perché quando già di bravi mi da dirvi. No. Personalmente, essere realisti no, però ci piacerebbe effettivamente, sì. Tra l'altro ci dì... Alfa New Year's. Come? Alfa New Year's. Sono le baris. Ma è vero che tutti i suoi 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 suoi? Ma è sì, ma è un pezzinetto. Io non voglio fare le notte e l'oro. Io mi astengo. Grazie. No, tanto anche questo. È ubriaco, basta. Non so se mai vi sono le 5 per mi sono ubriaco. C'è la lista, eh? È vero, è un tipo in gambe, secondo me è migliore che sei in Italia. Io tocco Ale. Lo tocco. No, non mi tocco. In generale, Luca fuma molto. Luca si tocca! Io... Non so il macchia, c'è il mio. Chiedini. Chiedina. Pensavo alla Valle Incantate, Chiedina. No, non so, perché i cassoni sono... Portarei la salsizza, di brutto. Vabbè, se dobbiamo introdurre il discorso di cassoni... Io sono sempre un gruppo che parlano di città. Io sono ancora convinto che... La domanda è la domanda cruciale, proprio, veramente. Cassoni! Ah, sì, non mi ricorda che ci sorgheggia prima di eliminare. Perché cassoni... No, i cassoni sono la base di tutto. Noi ci siamo conosciuti, grazie i cassoni. Stiamo rispondendo a tutte le domande per i cassoni. Annoi, per te l'abbiamo scritta per i cassoni. Un altro giorno in Cironi. Un altro giorno in Cironi. È troppo piccolo, è al 94, non posso sapere. Ormai arriva a scuola. Le uova. Le uova. Le uova. Le uova. A noi ci piace cosa vuole buttare. Questa è un'intervista seria. Sembra la domanda qua, è bella. Damara, però finito. Le uova. Le uova. Io non mangio le uova. Tipo, chiuderai su questo. Dì, quante volte più faiate. Quante volte faiate? Un po'. Piuttosto poco. L'unico è lui, ma non combina niente. Buon modo, dai. Un batterista. Un batterista. Un batterista. Se lo cagano pochi. Non si vede dietro. Poi oggi non si vedeva per niente. Quanti sei andato veramente di nera? Questa era una prova. Sì, è vero.